Dalle mie parti non succede nulla, per questo devo sempre inventarmi qualcosa. Ci sono famiglie che vivono da generazioni fuori del mondo. Ogni tanto si affacciano alla finestra per aggiornarsi sulle vicende umane dei vicini, ma non avendo seguito bene la storia, trevisano tutto. Sono ormai indietro alle puntate precedenti. In provincia non c'è tanto spazio per la fantasia. Si vola raso terra. Spesso da queste parti sono fuori dal mondo, ma non dalla realtà. Dalla noia nascono le storie di strapaese, che non si sa mai se siano successe davvero o no. Inizia a sognare di andar via. In un attimo la mente vola, ti proietta in cosa sarebbe successo se, solitamente alla fine, si risponde niente. Sognare in un posto dimenticato da Dio è il peggio reato che tu possa fare. La vera religione del posto è demotivare chiunque osi provare. Scatta subito il riflesso pavloviano che ti ricorda le cose importanti. Ovviamente poi al bar si parla sempre del fatto che non succede nulla. Cani pazzi che si mortono la coda. L'unica lezione che hanno imparato è di stare al loro posto. Guardano con disprezzo e pena chiunque non creda alla sacra legge della rassegnazione. L'evento più eclatante che mi sia capitato negli ultimi anni è stato quando abbiamo rubato una pecar ad un contadino della zona, andando in giro ubriachi tutta la notte per la città vuota. Un soborgo abbandonato, dove al posto delle fabbriche dismesse delle zone suburbane inglese, ci sono le macerie, i ruderi e i castelli medievali crollati del borgo antico. Ruvine di un mondo che non ricordiamo e che non abbiamo mai visto. Sembra l'anticipazione di uno scenario post-apocalittico che verrà. L'unico obiettivo di questo luogo è trovarsi un posto, accaparrarsi una pagnotta e scordarsi di sé. Gli unici mestieri seri sono l'avvocato, il medico e l'insegnere. Non è questione di arretramento ma di isolamento. Una comunità isolata si spegne, non trova più stimoli, a parte quello di passare il tempo. Quella mattina, avvolto tra questi pensieri neri, ascoltavo la solita musica triste post-tutto mentre andavo a lavoro, poco prima che un'auto mi investisse in pieno. Stavo attraversando la strada un po' trafficata, ma non avevo visto l'auto in fase di sorpasso. Ecco, un bel buongiorno dal mondo. Con la testa nel parabrezza fracassato sentivo voci lontane e spaventate. Cos'è sangue, quello che stava colando sulle mie tempie? Non l'ho mai scoperto. Era l'ultima domanda cosciente che ricordo. Al mio risveglio era tutto sfocato in un beccia ciecante. La faccia di Nina stravolta che sembrava sorridere per la prima volta dopo giorni. — Sei ancora qui con noi! A noi con la testa. Sentivo il volto accartocciato, il respiro rauco, emetteva un fischio ogni volta che gonfiavo il petto e avevo pure una gamba immobilizzata. — Dicono che ti rimetterai. È andata bene. Continuava a dire Nina cercando la mia attenzione. La cercava con lo sguardo, prima ancora che con le parole. Cercava di capire se ero sempre io. Poi venne a sedersi vicino e mi strinse lievemente la mano. Volevo guardarti da più vicino. Non c'era molto da guardare. Un viso tumefatto con uno sguardo disorientato. Sentivo solo il vuoto nella testa. Non pensavo a nulla. Avevo solo percezioni elementari. Ti ho portato il libro che stavi leggendo. Mi hai detto che ti stava piacendo tanto. Provai a regalarle il sorriso migliore della mia faccia. La realtà era che Nina se n'era andata qualche giorno prima che venisse investito. Non avevo alcuna voglia di vederla. Non volevo farmi vedere distrutto moralmente. Figuriamoci fisicamente. Aveva deciso di andare via nel momento peggiore della mia vita. Il dottore dice che uscirai presto. Ti aspettano tutti. Stricci un po' la mano in segno di ringraziamento. Poi mi chiesi chi fossero tutti questi. Credo si riferisca ai suoi amici, che sono stati anche i miei, fin quando ci frequentavamo. Ero in quella città da meno di un anno e l'unica persona con cui avevo legato era un aiuto pizzaiolo, grassottello, che beveva come Winston Churchill. Aveva anche mire politiche non ben definite. Al bar mi parlava di prenderci Roma, di cambiare tutto, di contarci per vedere chi è col noi, tra una birra e un cicchetto. Una volta si è pure picchiato con un marocchino, sfondando una vetrina di un bar. Venne denunciato. Fu costretto a fare il servizio civile o qualcosa del genere. Mentre ripensavo a lui, mi venne da sorridere. Nina se ne accorse e chiese «Perché sorridi?» «Però mi fa piacere. Finalmente risposi che stavo ripensando ai bei momenti». «Quali?» chiese Nina facendo una risiatina insolente. «Intendeva dire che da quando mi conosceva non ne aveva visti tanti. Credo sia per questo che è andata via. Per lei era tutto pesante, noioso e triste. Per me non c'è niente di più pesante di quelli che si ritenevano leggeri. In realtà è evidente che sono leggeri perché vuoti, citano Calvino a casaccio, come quando viene usato Popper sulla tolleranza per rendere impossibile qualsiasi discussione su un argomento. Potete cominciarvi a farvi un'idea sul perché se ne sia andata. Quando stavo con lei non l'amavo tanto quanto è andata via. A cosa pensi? Ne guardai un momento prima di dirle una bugia. Pensavo a com'era finita la partita ieri. Non so se fece finta di crederci, ma ressa il gioco. Avete perso come al solito. Scoppiamo in una risata sincronizzata. Credo fosse finita per entrambi. Stavamo parlando d'altro in maniera sottintesa. Nessuno voleva dare inizio alla contesa. Non era il momento. Hai voglia che resti un altro po', butto fuori così sul tavolo della situazione. Non preoccuparti. Se vuoi andare vai. Non c'è problema. Mi fa piacere. Non era vero. Si vedeva. Neanche io ne avevo voglia. Ormai l'unica cosa che creava la sua presenza era imbarazzo. Mi ricordava solo tutti i miei sbagli. Quando prima aveva esclamato sei ancora tra noi, come primo impulso vedendolo mi venne voglia di rispondere purtroppo. Non avevo ancora forze per farlo. L'unico motivo per cui restava era per sembrare una brava persona ai suoi occhi. In realtà faceva più danni restando in quel modo. Steso in quel letto dolorante, avevo solo voglia di lasciarmi andare. Ero sotto antidolorifici. Sentivo gli occhi gonfi. La luce filtrava affilata dalle persiane. L'aria si fece pian piano vallata. Immerso in un vapore pallido, ero in estasi, non sentendo più nulla. Il mio corpo si faceva vivo solo per inviarmi dolore. La mente mi ripeteva solo frasi sconnesse. L'unica pace era nella quiete del nulla. Credo si riferiscano a questo i mistici, quando dicono di aver trovato la pace. Un vuoto, un nulla, un silenzio. Io non lo chiamerei assoluto. Ma loro dicono che alla fine di quel buio c'è una luce, c'è una voce, c'è un ricordo eterno. Un amico musicista lo chiamava accordo eterno. Quello tra le forme e le forze. Tenuto insieme proprio da una stringa musicale. Da un accordo musicale. Meglio non entrare in certi argomenti. Se ne esce sgumenti. L'accordo che tutto lega. La nota che eternamente risuona. Cantava nel ritornello di una sua canzone. Credo abbia venduto meno del mio saggio sul fenomeno Glam Retraux. Abbiamo fatto a gara a chi faceva più schifo. Ho vinto io solo perché lui è stato assunto da un'orchestra. Ma non c'erano dubbi. Ero il favorito dall'inizio. Un tratto, mentre ero sovrappensiero, venne introdotto da un perché non parli un po' con me, di Nina. Quella volta non riuscì a trattenermi. Quando avevo voglia di parlarti, per provare a risolvere le cose tra noi, non ne avevi tutta questa voglia. Pensavo di aver diritto almeno ad una brutta risposta. Invece Nina se la prese subito. Dimmelo subito se devi fare così, che me ne vado. Mai alzare una palla simile a un kamikaze sentimentale. Sì, forse è meglio. Non so neanche perché sei venuta. Nina mi fulminò con lo sguardo. Conoscevo quel modo di fissarmi. Aveva voglia di incenerirmi la testa con uno sguardo laser. Poi optò come al solito per la stoccata venenosa. Perché non sarebbe venuto nessuno, altrimenti. Ma mi stava. Così imparo ad attaccare da confuso e immobilizzato. Mentre raccoglieva la sua roba sparsa per la stanza, riuscii solo a contrattaccare, dicendo «comunque anche il niente fa più compagnia di te». Ero finalmente solo. Ora potevo ricominciare da capo. Avevo solo bisogno di rimettermi in sesto. Avrei trovato un angolo per stare in disparte. Nascondermi dal mondo e finalmente sparire. Essere conosciuto solo da pochi individui della tua zona che sanno a malapena chi sei. Ecco il piano geniale. L'orario delle visite era finito. Per quel giorno non sarebbe venuto più nessuno. Quando cala la notte, l'ospedale si trasforma in una scenografia horror. A un momento o all'altro aspetti che l'infermiere venga a soffocarti col cuscino. Oppure tieni d'occhio la parete per accorgerti se l'assassino stia alzando la lama sopra la tua testa, in modo tale da scappare in tempo. Inizia a fantasticare sui possibili tentativi di fuga. Guardi fuori dalla finestra se c'è un albero. Ti immagini appeso a un ramo inseguito da uno zombie. Ti aspetti sempre che da un momento all'altro il vecchio del letto a fianco inizia a girare la testa a 360 gradi, vomitando a spruzzo. Guardi l'armadio, in attesa di sentirlo parlare con la voce di Tom Weiss. E così passi la notte serenamente inquieto. Ero andato bene fino alle quattro di notte. Non ne potevo più di stare nel letto a rigirarmi. Mi ricordai che nella tasca piccola del jeans era rimasto un tocco di ascis. La salvezza, quando serve, arriva sempre. Non sai, ricordandomi che nella confusione un'infermiera mi aveva messo i vestiti nell'armadio. I pantaloni erano tagliati e insanguinati, ma l'ascis era salvo. Indossai il cappotto lungo con una spallina rotta sopra il pigiama a righe. Sembravo un fuggitivo dai campi di lavoro. Chiesi una sigaretta all'infermiere, che mi indicò dove andare a fumarla. Ma avevo ancora bisogno di una cartina. Tornai indietro dall'infermiere, in carne e assonnato, con una pappagorsa importante, per chiedere un piccolo prestito. Prima ancora che finissi di porre la domanda, venne interrotto da un'altra domanda. Ma hai bisogno di una cartina? Ti devi fumare una canna. Evidentemente l'infermiera era anche un veggente, o qualcuno che legge la mente. Fatto sta che si alza avvicinandosi al cappotto da cacciatore sull'attaccapanni. Caccia dalle tasche a mongolfiera non solo le cartine, ma anche un po' di erba. Guardandomi sorridendo, disse Chiudi la porta. Mi fece attraversare una serie di uffici comunicanti, fino ad un'uscita in una specie di tunnel segreto dell'ospedale che lo collega internamente ed è usato principalmente dal personale. Finalmente, aprendo l'ennesima porta di servizio, ci trovammo sul tetto dell'ospedale. Disse di iniziare a squagliare. In quel preciso momento, mentre arrotolano un filtro, i fumatori solitamente ti raccontano la loro vita. L'infermiere veggente non faceva differenza. Era stata una vita difficile la sua. Aveva solo sua madre, che è morta quando aveva 18 anni. Ha iniziato a lavorare facendo di tutto, dal camionista al cameriere, ma poi è caduto in un brutto giro. Affari scommesse, droga e prostituzione. Il suo viso portava i segni di tutti i sedimenti. La barba incolta, biancastra, dava anche un'aria di stanchezza generica. Per questo sembra appesantito sempre. Qualunque cosa facesse sembrava che fosse pesante ed era sempre scontroso con gli altri. Mi confessò verso la fine della prima fumata che il suo più grande rimpianto era stato aver perso la moglie. Com'è successo? Non ragionavo più. Ero smarrito in un infinito loop, gonfio di coca. Sai, no, I'm in love white coco. Sembro nervoso perché è braccato in un giro più grande di me, con le guardie alle calcagna. Nessuno dice più guardie alle calcagna. Da quando ho ricominciato da capo guardo molti film d'azione, di mafia e di polizia. Perché hai deciso di smettere? Mi hanno arrestato. C'è da dire che non ero tagliato. Prendevo troppe botte e poi non so se sarei mai stato capace di fare sul serio. Intendo di uccidere. Mentre stavo per accendere la seconda, chiese a bruciapelo. Tu invece? Qual è la tua storia? Onestamente confessai di non averla. La mia storia è quella di uno che non ha ancora fatto nulla. Quella di uno in ritardo su tutto. L'unica cosa che sapevo era che non ero bravo nel fare quello che mi piaceva. Si mise a ridere tossendo un po'. Poi stretto nel colletto alto del cappotto con i pochi capelli diradati che sbandieravano nel vento. Mi guardò dicendomi Comunque vada ti andrà bene, non preoccuparti. Non capivo il senso di quell'affermazione. Così continuai. Come fai a saperlo? Perché si vede. Guardati davvero. Lo capirai. Cosa dovrai capire? Per tutti va così. Ma mi sembri pronto. Sai cosa ti aspetta? Distruzione è morte. Mi passò l'involtino fumante ridendo. Aveva tutto sommato un suo fascino decadente. Oggi confondono lo stile dark con la decadenza. In pratica mi aveva detto che potrei cavarmela solo perché sono consapevole della brutta fine che ci aspetta. In più sono anche abituato avendo già sperimentato quella fine sulla mia pelle. Non era bello quello che mi aveva detto. A modo suo era un complimento. Se ne restava nascosto dietro un sorrisetto sotto la corazza di una massa grassa e capelli unti lunghi. La nottata era finita. Spuntava l'alba. Il mozzicone venne gettato a terra e calpestato. Rientrammo infreddoliti e silenziosi. Arrivati al nostro padiglione ci facemmo solo un cenno con la testa e filammo ognuno a suo posto. Mentre mi toglievo il cappotto notai che l'anziano vicino di letto era rivolto con la testa all'indietro e la bocca aperta. Non dava segni di vita. Mi avvicinai per capire se respirava ma non ebbi il coraggio di toccarlo. Merda! Dissi sottovoce. Andai a chiamare Michele, l'infermiere. Venne portato fuori da due inservienti avvolto nelle lenzuola di cotone. Guardavo insieme a Michele sulla porta il cadavere portato via dagli inservienti, con le scarpe di gomma che stridevano sul pavimento dell'ospedale, in un silenzio irreale. Un paio di giorni dopo venne dimesso. Non incontrai più Michele. Credo avesse il turno di notte. Ma non era venuto più a trovarmi. Però mi lasciò ogni mattina qualche grammo nascosto tra le medicine. Ero imbottito da medicinali da non so quante ore. La prima sensazione, appena misi un piede fuori dall'ospedale, fu distordimento. Sentivo gli occhi gonfi. La realtà sembrava ovvattata, insonorizzata in un'ampolla. Feci le scale tenendomi alla balaustra, cianotico in volto. Con cappotto lungo nero e occhiali scuri, sembravo un moribondo. Il sole sbatteva sul viso così forte che per un attimo sembrava mi spingesse all'indietro. Entrai nel primo bar. Avevo bisogno di un caffè. Tra il rumore delle tazzine sbattute nel lavandino e il vociare del viavai dei clienti, sembrava Wall Street. Compro, vendo, cambio. Il cassiere batteva a scontrini come fosse un battitore d'asta. Ogni tanto esclamava, «Chi offre di più?» E giù, di risate fragorose in coro. Si conoscevano tutti, ma facevano finta di non vedersi, come se fosse una loggia massonica. A volte qualcuno era obbligato a ricambiare i saluti frettolosi e distaccati degli avventori più educati, che non conoscevano le regole non scritte di quel bar. Venne superato almeno tre volte da clienti che avevano fatto lo scontrino dopo di me, probabilmente per via delle loro conoscenze con il barista, dato che si scambiavano pacche e risate in quantità, chiamandosi per nome mentre mi cabavano. Per quanto mi riguarda non sentivo altro che un brusio indistinto. Finalmente arrivato a faczafazza con il caffè. La bevanda divina si avvicina alla bocca, scatta la magia dei neuroni allucinati. Per un istante ti sembra che tu possa affrontare la giornata. Facendomi largo tra la folla a spintoni, ne uscii. Entrai all'edicola di fronte. Il giornalaio aveva sempre la stessa camicia verdognola con quadratini dal 99, quando uscì Matrix e Juan Carlo Verón giocava ancora nella Lazio. Venivo spesso a questa edicola per comprare riviste e fumetti, per questo conoscevo la storia della camicia. Non aveva mai cambiato la sua divisa. Barbetta incolta, pochi capelli frastagliati, occhialini rettangolari, sguardo assente, espressività mancante. Credo fossero anni che non prestasse più attenzione a nulla. Ammiravo i pantaloni marroni, di velluto di quattro taglie più grandi, che teneva su con una cinta di pelle nera. In dieci anni di frequentazione non credevo di avergli mai rivolto la parola. Quando arrivavo sapeva già cosa volevo, non me lo chiedeva neanche. Si alzava con fastidio ogni volta, poi me li porceva senza guardare, già concentrato a battere sulla cassa il prezzo. Alla fine, quando lo salutavo, annuiva. Si avvicinava ora di pranzo. Così attraversai la strada per andare alla paninoteca. Mentre raggiungevo il marciapiede della sponda opposta, una macchina inchiodò a qualche centimetro dalla mia gamba sinistra zoppicante, suonando il clacson con veemenza. Avevo sentito solo il rumore strizzato del pneumatico che struscia sull'asfalto. Quando alzai la testa terrorizzato, vidi al volante una donna che rideva. Era Nina. Si affacciò dal finestrino sghignazzando. Dai, spostati, così parcheggio. Ti accompagno.